Cappuccio! Parti! Un po' lento al via Caimacan, dal gruppo invece emerge Viosa, seguita da Falcognana e da Darling Philly, poi Dream Hall, Bye Bye Normal, Largo, Messico per via interna su Motifly, ancora Pampuri che segue, poi Cima Minerva, Corbakti, Cernobbio e in coda al grigio Caimacan. Queste le posizioni, con in avanti Viosa che mantiene in iniziativa senza colpo ferire per le corsie larghe in giubba arancio con la tracolla blu scura, l'avanzata del top weight è Blu Petreus che prende posizione al largo di Darling Philly, in corda c'è Falcognana, poi Dream Hall in giubba maranto che segue Blu Petreus a sua volta seguito dalla giubba verde di Bye Bye Norma, ancora in giubba marrone galoppa Messico seguito dalla giubba bianco-rossa di Corbakti, in corda con il cap rosa Motifly su Pampuri, poi ancora più dietro Cima Minerva e a chiudere il gruppo Caimacan che avanza a largo, scavalcando Cernobbio in giubba nera e rosa. Queste le posizioni con i cavalli che si avviano completamente nella piegata, tutti dietro a Viosa su Blu Petreus che gradualmente è emerso in seconda posizione, al terzo in corda Falcognana, al quarto a largo invece Dream Hall, poi Darling Philly, Bye Bye Norma, Messico, Motifly, Corbakti che viaggia a largo, poi ancora Caimacan, Pampuri, Cernobbio e Cima Minerva. Questa è la situazione, si accende la bagara una volta che Dream Hall si presenta, avendo scavalcato Blu Petreus all'attacco di Viosa, all'esterno Darling Philly e Messico, Falcognana per via interna e di dietro Cernobbio che invece ha poca luce, ai 400 scarsi Dream Hall che viaggia all'attacco di Viosa, all'esterno Darling Philly, poi ancora Messico, da dietro recuperano Motifly e Caimacan, il grigio all'argo di tutti che prova ad ingambarsi, al 150 finale Dream Hall in lotta con Darling Philly, poi ancora Blu Petreus, Cernobbio e Caimacan nell'ultimo tratto, Blu Petreus all'interno di Dream Hall che si difende, Dream Hall, fine in fondo, su Blu Petreus, poi Darling Philly e Caimacan vicinissimi. Che arrivo ragazzi? Arrivo meraviglioso a 4 cavalli e la stoccata vincente, la porta a casa Dream Hall che con Dario Vargio ha un feeling particolare, per la signora Costa ai colori, Max Tellini al training, per il secondo all'interno Blu Petreus, inseparabili, Darling Philly e Motifly, e che lo scusa Caimacan. E' un minuto,